no 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 allora questo è questo tuo questo tuo e questo mio ragazzi se vi piace nutella come me mettete like basta nutella no 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 c'è ancora per mucca basta ma c'è tanto lì dentro ma noi abbiamo mangiato piccolo pezzettino non abbiamo nemmeno mangiato nutella tu capisci che c'è ancora mucca ma lì c'è tanto dentro la nutella capisci no aspetta cinque minuti aspetta aspetta stai arrivando aspetta Giochiamo a Minecraft! Mi vado a lavorare un attimo! Teo andiamo, ho un piano! Mi vado a fare la mia amatica! I amatica! Giochiamo! Mi vado a fare la mia amatica! Sì, non è ancora. Enfanto a fare la mia amatica! E' un altro tempo! Andiamo! Papà, sentiti qua! Perché? Ma perché noi volevamo leggere il libro! L'abbiamo letto ieri! Non è vero, non ci hai finito! Ma dovevamo giocare in Minecraft! Guarda, io sono più comodo sul divano a giocare in Minecraft! Va bene! Devi fare qua! No, devi schiacciare qua! Ecco, non schiacciare più! Non! Non devi schiacciare! Adesso scappa, scappa, scappa! In acqua, in acqua! Adesso scappa, scappa, scappa! Sì, sì, sì! Sì! Ma è qua salička! Ecco, bravo! Adesso scappa, scappa, d'illa! Scappa, 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 d'illa! Scappa, 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 d'illa! Bravo, bravo, bravo! Sennò ti prendi i crimini! Scappa! Adesso, sali su, sali su, sali su! Sì, 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 sì! Sì, ho preso il foglio! Mi dica il numero! 0, 0, 0, 0, 7, 0, 6! Ok! Ok! Grazie! Buona serata! Sì, sì, va bene! Ok! Ho fatto tutto! Grazie mille! Scusate per il... Ma il mio... No! Hai visto la storia della nostra mamma? Sì! Ha fatto cacca! Noi ti volevamo fare prank! Ma lei deve uscire adesso! Lei ha appuntamento! Cosa avete combinato? Andiamo, 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 andiamo! Eh, non lo so, però queste cose dovevamo fare urgente... Mamma! Ci fa il tè? Eh, scusate un attimo! Ma scusa, ma tu non riesci a farti il tè? Eh... Ho paura di scottarmi! Ma quanti anni hai? Ma ti ricordi quelle scorse volte cosa è successo? Eh... Sì, sì! Eh... Adesso sta arrivando la Pasqua e dobbiamo fare anche questo caso l'utente! Ma sai! Eh, ma io non lo so perché stanno facendo così, mi sa che adesso le feste sono tutte un po' rallentate In più anche zona penuda, zona rossa, roncione, tutti questi corbicoli e poi ci fanno la tua reazione E adesso voglio sdraiarmi Scusate Noi dobbiamo stare in piedi per fare sport Ragazzi sto facendo tardi! Cosa facciamo adesso? Ho un'idea! Matteo la chiama per disegnare insieme Finché lei sta in piedi tu li pulisci Tu! Tu la pulisci! Tu la pulisci! Tu la pulisci! Tu la pulisci! Tu! 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 Ehi, sporcato tu allora tu la pulisci! No tu perché tu sei più grande! Secondo te lei non lo nota nemmeno? No! Io ho dubito su di questo Allora Ascoltami adesso Matteo arriva da lei La spaventa Lei si spaventa Cade E noi la puliamo velocissimo Sì! Sto per uscire! Grazie! Dove vai? Vado a lavorare E con chi resta Matteo? Con te No! Io sono super impegnato Devo giocare a Minecraft E se non vuoi stare tu con Matteo mi aiutami lì No! Io sono troppo piccola Anche lei deve giocare a Minecraft Sì! Ho fatto lavorare la cacca Cosa? La lavorare la cacca Cacca? Sì! Questa non deve Ragazzi! Chi ha fatto questo scherzo? Se non voleva stare con Matteo Potete dirmi lì Non devemete spurgare i pantaloni Se non volevate stare con Matteo Potete dirmi lì Se non volevate stare con Matteo Potete dirmi lì Non devemete spurgare i pantaloni Wow! Andiamo a mangiare in sera! La nostra mamma non ha nemmeno capito cosa è successo. Aspetta, ho dimenticato pane! Sono cascato nel mio coraggio! Ahahahahahahaha!